Il parco dei Colli Euganei non si tocca. Obiettivo della legge approvata a fine anno dal parlamentino di Palazzo Ferrofini è quello di difendere i cittadini le attività produttive dall'invasione dei cinghiali. Sceglie Torreggia, invitato dall'Associazione Venatore e il consigliere regionale Sergio Berlato, per dare il via alla raccolta firme a sostegno della legge 187-2016 che porta la sua firma. Non c'è nessuna intenzione di smantellare il parco, ma mantenendo salvo il perimetro del parco si provvede alla riclassificazione delle aree. Non saranno calate dall'alto le aree che verranno considerate contiguo al parco, dove per regolare la forna selvatica sarà riaperta la caccia. La giunta a Zaia ha 90 giorni di tempo per definire la cartografia d'intesa con l'ente parco e i sindaci della zona. La caccia serve a sostenere il parco, rincalza il consigliere regionale ed è l'unico mezzo efficace per fronteggiare l'emergenza cinghiali. La caccia è una delle principali fonti di autofinanziamento delle aree protette. Qui nel nostro paese la fauna selvatica anziché essere una risorsa è un problema, una cosa anacronistica. Tra i 10 e i 15 mila gli esemplari liberi di attaccare le coltivazioni, invadere le strade e causare danni all'uomo, ai terreni e alle colture. Grazie